Far capire al governo che ci sono delle cose da sistemare, questa manovra non può funzionare. La manovra di questo governo, peraltro in deficit, quindi noi continuiamo a creare debito pubblico, non ha alcuna visione delle sfide, delle difficoltà in cui versa il nostro paese. CGL e UIL in piazza contro la legge di bilancio. L'appuntamento per le 10.30 di venerdì 24, corteo e interventi si alterneranno tra la sede della UIL, dove partirà la manifestazione, e la vicina sede CGL. Tanti i temi critici rilevati dai due sindacati. Non c'è nulla su politiche industriali, sul lavoro e sulla messa in sicurezza del territorio, denunciano tra tagli agli enti locali, con necessarie riduzioni dei servizi e aumenti delle tasse, aumento della precarietà giovanile e nessuna attenzione alle emergenze salariali. C'è poi la questione sanità, particolarmente sentita nel bellunese. Avremo il 6,1% del PIL nel 2026, i 3 miliardi che sono stati messi non servono neanche a coprire l'inflazione, e invece hanno aumentato il tetto della spesa dai 208 milioni, l'hanno portato a 1,2 miliardi di euro per la sanità privata. Altro tema caldo è quello delle pensioni, anche con la riforma di opzione donna. Le nostre donne non riusciranno più ad accedere a una pensione anticipata perché oltre ad aumentare l'età pensionistica ci sono dei paletti sempre più stringenti. Parliamo di 61 anni dai 58 da cui siamo partiti. Il nostro governo ci diceva che avrebbe abolito la Fornero, ma qui parliamo di Fornero aumentata e con problematiche sempre maggiori. Poi la mancata attenzione a scuola e formazione tra accorpamenti forzati di istituti e caro libri e affitti che portano l'università a essere accessibile solo alle famiglie più ricche. Scalzità di servizi per le famiglie come esili nido a fronte di politiche che spingono la figura della donna come madre. Insomma, tante le motivazioni che spingono CGL e Will a lanciare un appello forte ai lavoratori contro un governo che, denunciano, non mantiene gli impegni promessi. C'è una miriade di cose per cui andare in sciopero e essere insieme a noi venerdì. Non facciamo sciopero se non è più che necessario. Lo facciamo solo quando è necessario ed in questo caso è indispensabile.